Ho deciso di avviare questa attività perché è un settore che mi appassiona personalmente e che ho iniziato ad avviare già tre anni fa, ma nel piccolo, perché nel mio settore comunque si può operare anche tramite un'iscrizione al registo, tramite alcuni corsi di formazione e da lì ho iniziato nel 2021 e ho deciso poi quest'anno di avviare la mia attività personale creando appunto un ufficio di assicurazione. Nel 2021 ho deciso di tramite questo percorso, ho fatto un po' di esperienze in vari uffici delle zone e poi ho visto comunque che il settore è un settore in continua crescita, mi piace moltissimo e mi ci vedo pienamente e perfettamente. È un settore molto delicato e particolare assolutamente e quindi ho deciso di avviare appunto questa mia attività per portare anche innovazione nel settore. Abbiamo creato una struttura, un ufficio molto innovativo e ovviamente all'avanguardia sia nell'ambito di tecnologie, quindi attrezzature che utilizziamo e sia anche per la struttura in sé. Abbiamo creato una struttura di circa 200 metri quadrati, sono 7 postazioni in ufficio quindi diciamo che è una realtà abbastanza importante. Mi è stato utile tantissimo perché diciamo sicuramente non avevo i fondi disponibili per creare questa struttura che io avevo progettato ed essendo una nuova attività, quindi una start-up se non ci fosse stato il VicoGator sarebbe stato molto difficile ricevere dei fondi per avviare in tutto. Questo mi ha aiutato tantissimo. Diciamo che abbiamo impiegato qualche tempistica un po' più lunga del dovuto per le tempistiche che ha avuto la banca, però in sé il microcredit è stato molto veloce se devo descriverlo in poche parole. Anche perché sono solo seguito dal signor Bonacci, è stato moltissimo di aiuto, mi ha seguito passo passo in ogni situazione e mi ha aiutato tantissimo anche il suo appoggio, il suo tutoraggio. Felicissimo. Anche perché se non ci fosse stato il microcredito sarebbe stato molto difficile. Per me il microcredito è un grande aiuto per noi giovani.